Questo è lo spettro dell'intera gamma di vibrazioni possibili nell'universo, dai raggi cosmici in alto ai suoni subsonici in basso. Noi umani siamo in grado di percepire queste vibrazioni elettromagnetiche in misura molto limitata. La luce per noi visibile, fra l'infrarosso e l'ultravioletto, è ristretta ai sette colori dell'arcobaleno, misurabili come lunghezza d'onda tra i 380 e i 760 nanometri e come frequenza tra i 385 e i 770 terahertz. Ogni colore dell'iride vibra a una specifica frequenza misurabile. Anche i suoni udibili dall'orecchio umano, musica, parole, suoni naturali, sono confinati a una gamma ristretta che va dai 20 ai 20.000 hertz. Da notare che anche la frequenza delle onde cerebrali umane ricade in questa gamma di suoni udibili, sovrapponendosi in parte alla zona inferiore subsonica e corrisponde a quella con cui i canali cellulari guidati dai neurotrasmettitori e da altre sostanze informazionali pompano ioni. I vari recettori delle nostre cellule vibrano dunque a queste frequenze armoniche più elevate. La musica, che è una vibrazione che risponde a uno schema, può bypassare il ligando, cioè quella molecola in grado di interagire con un recettore allo scopo di produrre una risposta fisiologica e quindi entrare in risonanza con quei recettori interagendo con la cellula come un peptide o una droga o un'emozione. La frequenza vibrazionale delle note attiva il recettore mettendo in moto ogni genere di attività cellulare. È così che la musica può guarire, influenzando direttamente le tue molecole di emozioni per caricarti di energia facendoti sentire bene. Queste molecole non vibrano soltanto per causare dei cambiamenti in tutto il corpo, ma si ascoltano l'un l'altra attraverso la rete psicosomatica di comunicazione cellulare. Insomma, non udiamo soltanto con le nostre orecchie, ma con ogni recettore su ogni cellula del nostro sistema corpo-mente. Anche le parole hanno il potere di guarire tramite lo stesso meccanismo della musica. I modelli di pensiero, in parole povere ciò che pensi, possono essere identificati come reti neurali che si attivano insieme. La soglia di attivazione di una cellula cerebrale dipende dal grado di sensibilità delle molte migliaia di recettori sulla sua superficie che compongono i canali di entrata e di uscita della cellula. Ciascuno di questi canali ha una natura quantica, quindi o sono aperti o chiusi, ma in uno stato intermedio. Come la musica, le parole pronunciate sono in grado di far vibrare questi canali aprendoli o chiudendoli e di conseguenza di regolare l'attivazione di una rete neurale. Più spesso si attiva una rete neurale, più diventano forti le connessioni sinaptiche e più il modello di pensiero si fissa a livello cellulare. Reti che si attivano insieme si legano anche insieme. Non solo i neuroni, ma tutte le cellule hanno canali ionici e proprietà elettriche, così lo schema di pensiero condiziona in maniera estesa tutta la rete psicosomatica del sistema corpo-mente. In questo momento stai pensando letteralmente con il tuo corpo e le mie parole, poiché il suono fa vibrare i recettori delle tue cellule, di fatto influenzano la formazione di reti neurali nel tuo cervello. Tu stessa puoi costruire un nuovo modello nel tuo cervello affermando ciò che vuoi creare. Sei in grado persino di creare la tua giornata come meglio credi. Parole e pensieri rafforzano le connessioni sinaptiche, modificando schemi o reti neurali, dandoti un'esperienza personale della realtà e determinando potenzialmente i risultati desiderati. Insomma, le parole che pronunci, positive o negative, hanno il potere di creare una realtà, che tu lo voglia o meno.